ho qualche domanda per lei professore è una vera sorpresa giravoce che newt scamander sia diretto a parigi so che lavora per ordine suo che ha da dire in sua difesa silente se avesse avuto il piacere di averlo come studente saprebbe che newt non è il tipo che esegue gli ordini si avvicina il momento newt dovrai decidere da che parte stare vai da qualche parte no ci andiamo insieme genio io non posso agire contro grindelwald dovrai farlo tu ciao 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 ciao